ciao ragazzi e benvenuti in questa nuova puntata di contatori del tempo un altro episodio dedicato alle disquisizioni caotiche disquisizione caotiche nel senso che risponderò alle vostre domande e poi magari vengo anche un po triggerato da quello che dite magari salta fuori qualche discorsino interessante e dubito perché ho poco da dire però vediamo un po come va a finire chiaramente le domande mi sono state poste dagli abbonati al canale ho aperto una piccola ho fatto un piccolo video di pochi minuti secondi anzi nel quale dicevo fatemi una domandona sotto al video ci sono arrivate alcune domande alcune lo scartate perché non era possibile rispondere erano un po troppo vaghe e ne ho preso una ventina venticinquina da divertirci un pochino vedere cosa cosa quali sono le vostre curiosità e cosa io potrei dirvi su queste vostre curiosità ora prima di approfondire vi vorrei ricordare il quinto watch meeting il quinto raduno del canale che ormai ci siamo si terrà domenica 12 maggio alle ore 15 a via reggio presso la gioielleria pasquali domenici nella zona pedonale antistante ci incontreremo per fare il nostro raduno di appassionati di orologi poi potremo anche entrare nel negozio provare gli orologi a bizzef tutto quello che c'è ci saranno longin vulcan oris che è sponsor della manifestazione orologi calamai l'amico umberto pelizzari noto apneista e anche uomo di spettacolo e anche un omaggio per tutti voi una bella polo da portarvi a casa una maglietta così siete tutti contenti vi aspetto domenica 12 maggio ore 15 siateci detto questo vi mostro l'orologio del giorno che è uno degli ultimi arrivi il mio bellissimo maco 2 anniversary un orologino da 42 mm tutto scuro e con questo nato blu secondo me fa il suo mi piace proprio proprio ora lo andrò solo qualche giorno poi dopo lo metto via e queste estate lo tiriamo fuori gli facciamo prendere tutto il sole del mondo va bene al mare lui deve venirci dai bando ai discorsi inutili e iniziamo con le vostre domandine ciccio canico e qua si inizia bene con nickname ciao davide più che una domanda vorrei un parere ho notato che tra il girapere laureato e il maurice lacroix icon che sono due orologi all'apparenza molto simili c'è una sproporzione di prezzo notevole secondo te qual è la ragione queste domande mi piacciono ma secondo te perché una bmw deve costare più di una dacia no per esempio no così perché ci sono perché ci rappe rego gigantesca come casa cioè un ambaradana una struttura una manifattura che è dieci volte maggiore di quella di maurice lacroix che al limite può essere considerato quasi poco più di un assemblatore di orologi no hanno anche loro il calibro di manifattura ma non hanno una manifattura vera e propria arrivano i componenti li assemblano già prego storicamente anche come struttura è completamente differente ma fa che calibri veramente in house a bizzeffe a una struttura come ho detto che prevede anche anche una sezione heritage per esempio non come ho già detto spesso i costi sono maggiori la qualità è maggiore e quindi il nome del brand è maggiore che conta anche quello se coca cola è il brand più famoso del mondo avrà un valore no questa cosa e lo stesso nell'orologeria il nome di un brand ha un valore ma qua non è solamente questo il nome di brand ci sono proprio che notevoli differenze qualitative poi che piacciono gli orologi il giro per ecco c'è laureato appunto poi basta cioè non è che si va ma odio anche anche l'aicon anche moris la croix poco più dell'aico c'è al ventura poi dopo non è che va bene comunque la logica è questa mar guid ci dai una spiegazione della manutenzione e della revisione degli orologi meccanici e automatici che meccanici e automatici uguale per non essere spennati quanto per non essere spennati quanto in media dovrebbe costare e ogni quanti anni è consigliabile farla stessa è una domanda di quelle ricorrenti no per non essere spennati non è che funziona così funziona che te quando compri un orologio sai più o meno quanto andrà a costarti una revisione perché per esempio sul sito omega c'è scritto un solo tempo 750 service completo non revisione service completo anche anche la parte estetica 750 euro lo sai già quando lo compri se compri un emilton un tisso mi sembra 180 euro un emilton 180 euro service completo quindi a seconda del marchio ha un costo non è una sorpresa che a un certo punto ti trovi lì o quanto costa fare il service lo sai prima se per te è troppo spendere il service non compri quell'orologio compri un altro marchio un altro orologio ogni quanto deve essere fatta solitamente sono cinque anni ma cinque anni è veramente conservativo nel senso che per essere sicuro al 100% la fai ogni cinque anni prima che succeda qualcosa e non sbagli mai poi in realtà i cinque anni possono diventare sette otto non succede niente anche dipende anche dall'uso che ne fai dieci perché magari però dopo a un certo punto ti viene proprio anche il dubbio a te stai scappando da una cosa che devi fare per forza prima la fai meglio è se poi non vuoi spendere tanto lo porti da un orologiaio indipendente e vediamo un po cosa viene fuori se il calibro è semplice te lo smonta te lo rimonta poi però l'accesso ai pezzi di ricambio non c'è ad esempio quando io ho mandato il mio omega acquaterra a fare il service completo in casa madre hanno sostituito anche le parti delle parti anche se magari non ce n'era bisogno no per prevenire dopo vent'anni hanno sostituito la corona hanno sostituito le lancette un orologiaio indipendente non ce l'ha queste cose ti fa ti smonta il calibro te lo rimonta se tutto va bene te lo dà se si rompe qualcosa o se vede qualcosa di usurato diventa un casino comunque lo sapete prima quando quanto costa una revisione vincenzo costa può capitare che all'interno di una raccolta possa scendere l'entusiasmo per qualche pezzo e che venga voglia di sacrificarlo per passare ad un nuovo orologio migliorando progressivamente la collezione quale modalità o piattaforma di vendita risulta essere la più efficace non lo so la piattaforma più efficace secondo me perché è una grande vetrina vetrina è crono 24 che però è a pagamento ti si trattiene una percentuale sulla tua vendita però funziona funziona bene così come un'altra piattaforma a pagamento può essere ebay anche quella funziona non ho mai provato o meglio non l'ho mai provato subito punto it ad esempio non l'ho mai provato perché poi li utilizzo più che altro come vetrine nel senso che poi io vado di persona a comprare l'orologio io non l'ho acquisto non l'ho acquisto online se costa tanto vado di persona per proprio per evitare i disguidi con corrieri con fregature no però per venderlo poi conta molto non tanto la piattaforma ma quanto anche la tua attendibilità voglio dire se io domani mi metto a vendere uno dei miei orologi 500 euro lo vendo subito lo vendo subito perché le persone sanno che è attendibile la cosa mi fanno bonifico estantaneo di 500 euro e sanno che non è una fregatura poi se ci saranno altri problemi no l'orologio non funziona quello si si vede ma che sia una fregatura è impossibile mentre io che devo acquistare da un pinco pallino qualsiasi da canicati qualsiasi ci metto ci penso sopra due volte prima di fargli un bonifico di 500 o 1000 euro così alla cieca quindi un consiglio è anche uno che deve vendere i propri orologi che sia attivo attivo nella community se sei attivo nella community sui vari forum sui sui profili facebook sui gruppi facebook dedicati agli orologi sui gruppi telegram quando vendi un orologio sei conosciuto e la fiducia in te c'è è maggiore quindi puoi anche venderlo sul mercatino telegram come il mio o su facebook perché sei conosciuto e se l'orologio piace ti fanno subito il bonifico altrimenti diventa un po complicato e quel punto lì crono 24 con la sua col suo sistema di sicurezza no che prima arrivano i soldi poi spedisce è un qualcosa in più quindi crono 24 quello che funziona meglio certo che se l'orologio è da 200 euro fai anche fatica a fare tutto questo ambaradana a spendere altri soldini di commissione spedizione questo dipende anche dal costo dell'orologio marco girondelli volevo sapere cosa pensi della casa ebel e come mai i suoi orologi sono tanto bistrattati almeno qui in italia che ne ho visto solo uno dal vivo non sono bistrattati bistrattati è un termine che indica malvolenza no non sono bistrattati si vedono poco si vedono poco anche il buon giacomo che è concessionario della ebel fatica anch'io se vado là a prendere un orologio da recensire ebel fatico perché perché non arrivano le novità non presentano cose nuove e questo deriva un pochino dal fatto che fa parte magari di un gruppo o ebel non ricordo nemmeno di che gruppo fa parte la proprietà che non decide che decide di non investire o magari di non investire abbastanza in marketing nel paese italia magari vanno per la maggiore in altre in altre nazioni di certo è che in italia non stanno facendo molto non è che escono modelli nuovi come altre case che non ti danno il tempo di respirare e arriva la versione da 38 arriva anche questo e anche questi sono costi per un'azienda no investimenti che poi magari ritornano chiaramente di soldi ma fare modelli nuovi provare magari sbagliare tornare indietro farne un altro sono costi costano queste cose chi vive sulla loro lì che non fa altro a un certo punto poi scompare non saprei cosa prendere un ebel ne ho presi alcuni da recensire poi vado lì sono sempre quei due o tre modelli non c'è niente di nuovo non mi fanno del marketing non so se esistono ancora addirittura cioè ti viene anche il dubbio ma esiste ancora eternano ad esempio anche loro sono in un momento di affossamento non producono novità l'ultima volta che ho visto ho visto che erano arrivati quei due o tre cronografi erano costosissimi era un passo un po troppo lungo per la gamba eterna anche se il nome lo meriterebbe mancano novità mancano diametri più contenuti un design innovativo qualcosina da stuzzicare gli appassionati non basterebbe poco ebel in italia non sta facendo molto così come eterna così come altri mi viene in mente favre loba quanti non ho presi di favre loba da portare sul canale che sono orologi tecnici tool watch proprio che te li vedi dici cavoli con questi qua ci posso andare a scalare la montagna tutto nella tua testa perché poi non fai una minchia però bellissimi alcuni avevano l'altimetro meccanico pensate un po e anche in questo caso la proprietà indiana fa gruppo fa capo al gruppo tata figuratevi non stanno non stanno facendo nulla non c'è un novità anche ma non tanto per me un negozio di giacomo basta guardare anche sui blog di quelli più famosi o di minchi monochrome non è che ti presentano un favre loba nuovo modello no niente non c'è niente marchi che si rischia che poi è un peccato che scompaiano marco giacosa ciao davide nel campo del vintage sappiamo tutti che tu collezioni solo e comunque principalmente longin a me piace avere invece uno due in alcuni casi anche di più pezzi rappresentativi di ogni meson che apprezzo lo trovi senza senso no è sensatissimo cioè anche io ero partito diciamo così come per meglio dire avere due o tre longin due o tre zenith due tre omega vintage poi andare anche sui marchi scomparsi i certina certo che ha senso è una bella collezione due o tre orologi rappresentativi vintage di ogni marchio ha un gran bel senso il punto è come detto spesso che a meno fatico fatico a prenderli a caso gli orologi ok quindi più a amplifichi la situazione no il tuo raggio diventa maggiore con molti marchi più il rischio di prendere di cadere in errore non prendere la fregatura di cadere in errore c'è cioè io dovrei conoscere tutti quei modelli di orologi che vado a comprare un minimo un'infarinatura no a prendere vado a prendere uno zenith che abbia il quadrante a posto la corona che quel modello sia esistito che la cassa sia giusta che il bracciale sia giusto o il cinturino queste cose qua è impossibile sapere tutto di tutti quindi ho deciso di scegliere un marchio login mi piace in modo che poi dopo quando vado in giro a cercare un logino o almeno un'infarinatura cioè se c'è una cassa che non ho mai visto strano adrizzo le antenne no poi magari esiste veramente anche perché non l'ho mai vista ma adrizzo le antenne e così sono un pochino più ferrato in un argomento piuttosto che essere onnisciente poi se te invece ti fidi di prendere quello che viene quello che capita buon per te stefano m ciao davide e grazie per l'opportunità ho sentito parlare di novità riguardo al cuervo i sovrinos magari qualche orologio con diametro inferiore mi piacciono molto ma sono troppo grandi per il mio gusto sì io ne ho già visti un paio e sono veramente carini ho visto un paio di novità che usciranno tra poco e occorre dire che non è che ne sono piccoli sono 39 mm quindi hanno un pochino diminuito e più che altro anche ne ho visto uno che pur mantenendo gli stessi stilemi con quelle anse veramente preponderanti le hanno un pochino smussate e tondeggiate e con i piccoli secondi addirittura sono veramente degli orologini appena arrivano li porto sul canale matteo valentino sono un giovane neofita mi sono avvicinato al mondo dell'orologeria meccanica da poco soprattutto grazie ai tuoi video secondo te entro quale limite un orologio può essere definito entry level un orologio può essere definito entry level entro quale limite che ne so devo sapere tutto io diciamo 500 600 euro quello è il limite per il quale viene definito entry level secondo me che poi non dipende solamente dal costo ma anche da le caratteristiche tecniche voglio dire ci possono essere orologi entry level anche da 7 800 euro dai poi di più non possono essere definiti entry level comunque sotto i 500 diciamo domanda interessante ecco un bel nickname qf wf q ciao davide secondo te ha senso il timex marlina carica manuale con movimento sigal st 6 modificato o è solo una trovata commerciale dal sapore vintage ma di poca qualità ma non lo so sts st 6 modificato modificato vorrei sapere in che senso c'è un calibro cinese è un calibro sicuramente economico non lo conosco non vedo perché no se ti piace l'orologio sono sempre del solito parere ma un certo punto ti piace l'orologio il costo è giusto anche se dentro c'è un sigal st s st 6 e prendilo io non lo so se lo prenderei dovrebbe piacermi veramente tanto dovrebbe avere una caratteristica non mi ricordo se è sottile ad esempio carica manuale dovrebbe essere sottile se me lo fai carica manuale spesso allora invece se sottile vabbè ingoio anche il sigal st 6 hai capito poi fa un pochino è che devo sapere tutto io massimo vermili ciao davidi per diversi motivi anche potendomelo permettere non comprerei un re un re sense ma sono orologi che mi affascinano moltissimo tu cosa ne pensi nemmeno io recense recense non mi piacciono per nulla lo dico adesso e poi magari fra un anno ce ne ho 10 al pulso non mi piacciono per nulla non mi affascinano nemmeno sono quegli orologi particolari che ruotano anche i quadranti mentre ruota l'orario scicchettosi nomino non fanno per me mi dispiace c'è un sacco di orologeria alta orologeria orologeria di pregio fatta bene con soluzioni tecniche incredibili che però non piace non è che perché non c'è un bellissimo calibro un bellissimo marchio mi devono piacere gli orologi mi devono piacere per forza se non c'è un orologio che mi piace che mi attira metto da parte metto da parte leonardo leonardi complimenti per il nome che ti hanno dato ciao davide a me sembra che omega rispetto a zenith abbia un catalogo estremamente più assortito non pensi anche tu che zenith sia un po carente sì lo penso penso che zenith sia un po carente nel senso che come scelta come ventaglio di offerte fino a ieri mancava un diver ad esempio non avevano un diver ma sono anni che non hanno un diver a catalogo zenith e poi ora a watch and wonders 2024 sono usciti due modelli diver e mi sono rimasto deluso perché uno è la ridizione di uno degli anni 70 bello bellissimo cavoli bello bello ma non fa per me io avrei voluto anzi un diver ex novo un nuovo diver dal design originale contemporaneo un po come hanno lo zenith defy che orologio contemporaneo moderno per il solo tempo con bracciale integrato anche di là fammi un orologio non con bracciale integrato basta perché hanno fatto il defy diver no ma un diver standard con un bel design fatto da zenith con un bel calibro dentro la qualità di zenith ci avrei tirato sì su questi ultimi due che hanno presentato non mi fanno impazzire poi il resto anche lì c'è hanno il primero è da 38 e lo avevano da 42 anche prima no proprio l'origine è quello con i tre contatori colorati adesso quello da 42 non c'è più 38 per me piccolo non ho possibilità di scelta non mi danno tanta scelta sì per me è carente rispetto omega mattia serio davanti del marchio la mia domanda è questa cosa ne pensi delle novità presentate da tudor per il 2024 a mio parere tudor con il nuovo 58 gmt pepsi ha colpito ancora si ha colpito ancora io l'avevo detto potete andare a vedere i video che sono che ho fatto quando è uscito il black bay 58 e tu vedrai che con questo qua l'hanno azzeccata e usciranno una serie di altre versioni del 58 da 39 con gmt cronografo bla 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 bello bello il black bay gmt lì 50 e gmt ma non fa per me non non c'è niente di nuovo soffronto occidentale sempre quegli stile mili di mamma rolex con la ghiera a doppio colore quante cose si potrebbero fare no fate bene come fassano fare loro sono andati lì bello anche il black bay da 41 tutto nero ma anche lì preferisco sempre ghiera rossa perché perlomeno è un po' differente dal solito questo qua tutto nero bello sobrio come dovrebbe piacere a me ma gli stile mi sono sempre quelli poi quello in oro 18 carati completo black bay tutto oro e dimentica bellissimo costa anche un botto io che è che spedevo tutti questi soldi per avere un tudor black bay un matto uno che c'è due milioni di orologi il due milionesimo lo prendo tutto d'oro perché mi gira così promossa 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 perché vi piacciono ma per me sono sempre lì nel dimenticatoio non riesco a comprare un tudor ora come ora a ramu ciao davide mi sono innamorato del rolex explorer 2 ma a parte il prezzo dell'ultima referenza la dimensione davvero importante quindi stavo pensando alla referenza 16 570 prodotta fino a 2011 secondo te vale la pena spendere 7 8 mila euro per un orologio di secondo terzo polso secondo me no io questa è la mia è la mia opinione del 2011 stiamo parlando di un orologio di 14 13 anni 7 8 mila euro io preferisco prendere qualcos'altro che è un nuovo semi nuovo come ho fatto con il cartier che del 2021 il santo su altri orologi un semi nuovo il secondo polso appena uscito track ce la faccio ma a dieci anni vent'anni non ci riesco mi sembra di cioè a meno che non sei un appassionato di vintage allora gli spende ogni mese diciamo ogni mese mi compro un rolex vintage un coso vintage e c'è una collezione come si deve se no avere un orologio di dieci anni undici anni quattordici anni quindici anni vent'anni spendere 7 8 mila euro io non ci riesco ma è solo una cosa mia te fai come vuoi secondo terzo polso dici infatti potrebbe essere secondo terzo quarto poi sai con la bolla che c'è stata è capace che girava di mano in mano ogni due mesi aumentava di 500 euro lo passava qua lo passava lo passava la era un oggetto come fosse una azione del mercato finanziario che passa di mano in mano finché sale poi quando crolla chi ce l'ha il cerino a chi lo diamo prendilo se ti piace contento te contenti tutti camillo belliride belliride la mia domanda come movimento breguet e le cutre la mia domanda come movimento breguet e le cutre ma come cazzo scrivete la mia domanda come movimento breguet e le cutre li considero il top te cosa ne pensi è bravo hai fatto la domanda da capitano ovvio breguet è quella che ha inventato l'orologeria praticamente che chiaramente ha sempre fatto i suoi bei calibri di bani fattura finché non è andata in crisi poi è stata ripresa ma è si tratta dei signori calibri e gg le cutre uguale gg le cutre nasce proprio come costruttrice di calibri e infatti è quella credo che abbia costruito più calibri di manifattura nella storia ne ha una smandrappata gigantesca di calibri e prima nasceva proprio come costrutto come fornitrice forniva o demorpi che bascero costante a stec philippo e una sacco di altri marchi no gli dava i loro calibri poi si è messa a fare anche i propri orologi e chiaramente te mi hai detto breguet e gg le cutre che sono il top bravo ti faccio anche un applauso detto questo però poi andare a comprare un breguet ti ci voglio vedere non tanto per quanto costano ma perché non io non vedo nessuna offerta di orologi appetibili voglio prendermi un breguet e vado lì c'è il type 20 il type 21 che sono carini ma sono belli spessi cronografi poi il resto tutti orologi super classici veramente da no non ce la fa il breguet non ce la faccio il gg le cutre che già qualcosa c'è il reverso per l'amor del cielo il polaris mi piace ma anche lì è un po anonimo cioè devo comprare un polaris e solamente perché c'è scritto gg le cutre sopra no deve proprio deve proprio attizzarmi un orologio purtroppo è così si fatica ma cioè si trovano più orologi più interessanti magari in marchi da 2 3 mila euro 4 mila 5 mila che in questi qua da 10 mila 20 mila strano alessandro vo3jx mamma mia ciao davide innanzitutto complimenti per il canale volevo chiederti il tuo pensiero sullo squale 15 45 gray grazie in anticipo ci vediamo al watch meeting ti aspetto squale 15 45 gray bellissimo 40 mm vetro zaffero ghiera in ceramica aspetto eccezionale da quello che so poi anche i bracciali hanno incominciato a farli come si deve perché l'ultimo che avevo preso io che ci avevo aveva i bracciali in lamierino ripiegato vabbè ci sta ora invece mi sa che hanno iniziato a farli proprio fatti bene è un bellissimo orologio 3000 e 2000 costa mi sembra perfetto non saprei non saprei non l'ho mai recensito se c'è qualche punto deboli non lo so però a vederlo così è proprio bello complimenti marco taglia sacchi ciao davide per gioco deve rimanere con solo quattro orologi un everyday un diver un crono e un draw e un dress quali scegli della tua collezione io il dress non ce l'ho in collezione se il dress watch quello vero e proprio non ce l'ho in collezione deve essere piccolo per il dress watch scelgo uno dei miei long jean vintage così sei contento e ti taglio la testa al toro puoi scegliere il rolex digest che non cade in nessuna di queste di queste categorie perché non è un everyday watch non è un dress watch è l'orologio della domenica bello acciaio oro bello vistoso lucica ecco lì ogni tanto va indossato proprio per sentirti bene quindi il day just poi un diver prendere che l'omega no e l'onjin legend diver dal 39 ma lo terrei bello stretto e poi cosa mi dicevi un crono il crono speed master però veramente riduttivo cioè non è un gioco è un gioco del manga diciamo la verità te l'ho detti proprio perché sennò every day watch mi prendo l'explorer mi tengo l'explorer come every day watch no però lascio fuori il day just no lascio fuori il devil come orologio elegante no quindi una domanda del manga a cui ho risposto a pippo di cocco peppe 753.8 in che modo tu ti rendi conto che un orologio della tua collezione non ti prende più e che magari è il momento di venderlo scambiarlo mi ha colpito molto il fatto che vendeste il tuo constellation acquistato al tuo compleanno magari se possibile mi potresti raccontare l'esperienza che ti ha fatto arrivare a quella decisione l'esperienza che mi ha fatto arrivare a quella decisione è semplice che volevo un orologio nuovo volevo un santos oppure anche un panerai ad esempio però senza tirare fuori dei soldi allora qual è il trucco per senza tirare fuori dei soldi è dare indietro un orologio nemmeno stare a venderlo perché se lo avessi venduto prova probabilmente avrei fatto più soldi di quelli che ho fatto dandolo indietro ma lo sbattimento voleva essere il minore possibile possibile quindi ho trovato la situazione giusta darlo indietro e ho scelto il constellation perché era quello che indossavo meno il marchio mega ne ho 4 5 non me lo ricordo quindi era il marchio che ne avevo di più ho preferito sacrificare lui che poi so che il giorno dopo subito l'ha comprato uno un follower un amico del canale telegram l'ha comprato a un buon prezzo mi sembra veramente un buon prezzo perché è di destino oltre 7 mila ha preso un buon prezzo è così ho scelto a volte a volte evito di ora mi hanno fatto anche un offerta adesso ve lo dico chiaro e tondo mi è arrivato un email l'altro giorno dove un amico un follower mi offriva 5 mila euro per il mio mega devil quello con il bracciale armadillo bello che ho fatto sistemare revisionare tutto era fondo di magazzino gli ho detto di no gli ho detto di no gli ho detto di no anche se 5 mila euro per quello l'orologio lì è una bella offerta però ho resistito cioè a volte mi capitano anche queste situazioni di persone che mi fanno le offerte senza che io metta in vendita l'orologio ed è difficile resistere perché ti viene o mi arrivano questi ci metto sopra qualcosa me ne prendo un altro ma poi io quello lì lo ritrovo un omega devil così nuovo di pacca fondo di magazzino degli anni 2000 inizio che ho anche fatto sistemare lo ritrovo mi pento di quello me ne pento sì me ne pento sì quindi devo devo resistere alle sirene franco colombo ho letto su qualche forum che sarebbe meglio evitare di caricare gli orologi automatici utilizzando la corona ma le motivazioni che venivano adotte non mi sono parse convincenti sì è meglio evitare ma è meglio evitare non significa che è vietato è una sicurezza in più nel senso che cerco di spiegarti proprio veramente i soldoni nell'orologio nel calibro c'è la molla di carica che deve essere caricata in un orologio automatico la carica il rotore quindi c'è un sistema che è agganciato alla molla quando ti vai a caricarla manualmente c'è un sistema che è agganciato la molla e però deve far sganciare quell'altro altrimenti trascineresti il rotore bene c'è un sistema che lo sgancia te stai mettendo la prova a quel sistema di sgancio lì ok lo stai facendo funzionare se lo fai funzionare troppe volte come tutte le cose del mondo c'è il rischio che possa succedere qualcosa quindi è meglio evitare di caricare con 50 giri di corona di carica un orologio automatico gli dai 2 3 4 poi dopo lo devi far vivere col polso è meglio così perché in un orologio che nasce a carica manuale le componenti sono sovradimensionate o per meglio dire sono correttamente dimensionate per caricarlo ogni giorno ok in un orologio a carica automatica sono dimensionate in maniera inferiore sono più piccole perché perché la carica manuale deve essere un surplus un momento ogni tanto è un po' come mettere il ruotino di scorta una macchina dire che non ha le stesse prestazioni della ruota originale chiaramente non c'è la stessa sicurezza no è qui uguale stai utilizzando la carica manuale che è una cosa di riserva cioè è una cosa secondaria opzionale sc ciao davide cosa ne pensi di una collezione fatta dei pezzi iconici di ogni marchio compatibilmente con il proprio budget e quali sceglieresti ogni marchio ci sono 4 500 marchi di orologi qua cosa facciamo 4 500 elenchi di orologi cosa ne penso di una collezione e penso sì poi devi anche decidere qual è il pezzo iconico di una di un marchio quale per rolex qual è il dettore submariner o il digest quale boh non lo so io non so se nel mio cervelletto se io dovessi scegliere quattro ad esempio cronografi da tenere in collezione no a livello collezionistico io opterei per il ma è personale rolex daytona cronografo omega speed master zenith è il primero e bright link cronomat tra questi quattro qua ma è personale perché poi ci puoi sostituire quello che vuoi e ci vuoi vedere anche un tagoio quello che ti pare il monaco questi quattro qua però un orologio rappresentativo di ogni marchio io non ci riesco non ci riesco però se qualcuno vuol fare la collezione di comprarsi che lo faccia mi sembra un pochino forzata come cosa preferisco scegliere quello che mi piace più che quello rappresentativo di ogni marchio cioè l'omega de vil che di cui parlavo prima non è rappresentativo del marchio omega ma mi è quello che voglio tenere più a lungo possibile cioè preferisco scegliere quello che mi piace che quello che gli altri considerano rappresentativo michele sorrentino come funziona un tourbillon tourbillon e cosa ne pensi di questa complicazione utilità o meno il tourbillon l'ha inventato l'amico breguet di cui prima quello che ha inventato l'orologeria fra un po nel 1800 all'inizio del 1800 cos'è il tourbillon è una gabbia che ruota meccanicamente all'interno della quale c'è il bilanciere lo scappamento che ruotano nella gabbia quindi il bilanciere non è mai nello stesso nella stessa posizione di riferimento rispetto alla forza di gravità perché il bilanciere oscillando deve tener conto della forza di gravità dall'alto verso il basso quindi agisce sempre in un senso se sta così il bilanciere ma se il bilanciere ruota si compensa perché ogni volta la forza di gravità cambia il suo punto di appoggio mettiamolo così no e questo veniva soprattutto per gli orologi da tasca l'orologio da taschino lo tenevi sempre nella posizione con la catena verso l'alto quindi con la corona verso l'alto diciamo sempre in quella posizione e la forza di gravità agisce sempre nella stessa direzione se l'orologio è fermo e all'interno il bilanciere ruota il bilanciere compensa perché ogni volta cambia la sua posizione rispetto alla forza di gravità e compensa scarti anticipi ci siamo fino qua in un orologio da polso già serve di meno o è inutile totalmente perché in questo momento la forza di gravità sta agendo perpendicolarmente poi se sto così agisce ad ore 6 se invece sto così a guardare l'orario agisce ad ore 12 quindi è lui che si muove rispetto alla forza di gravità poi se vogliamo dirla tutta è inutile perché perché serve a darmi la precisione di marcia cioè sarebbe utile se mi voglio il tourbillon c'è l'orologio più preciso del mondo ma se con una qualsiasi calibro industriale ben regolato ben realizzato ben testato si riescono a raggiungere gli stessi scarti che un tourbillon voglio dire allora non serve il tourbillon diventa una complicazione aggiuntiva che dimostra le capacità della casa costruttrice questo sì c'è da dirlo e dimostra anche il valore il tenore il pregio di quella casa e di quel calibro c'è un po da dire che si vede un tourbillon anche a medio costo come magari da goyer federico stan e anche economici come i tourbillon cinesi che non so quanto tourbillon siano sicché poi a un certo punto si va anche a perdere un po no è qui è una di quelle situazioni nelle quali che se io volessi veramente un tourbillon per averlo in collezione dovrei scegliere obbligatoriamente qualcosa di costoso non posso accontentarmi di un sigal o di qualcosa di raffazzonato perché non non lo prendo per le prestazioni lo prendo per il pregio quindi deve essere costruito in maniera pregevole mi sembra di aver detto tutto no ah no ci abbiamo ancora maglio abriani ciao davide so che non è il terreno da te più frequentato ma c'è un orologio giapponese che davvero desideresti desidereresti e che non hai ancora potuto acquistare che non ho ancora potuto acquistare non è la frase giusta nel senso che avrei potuto ma non ho deciso nel senso che non è fuori dalla possibilità di un gran secco mi piacerebbe non è che non posso non ho potuto acquistarlo perché invece di prendere il cartier santos prendevo un gran secco semplicemente questione di priorità di cosa e voglia di prendere prima però un gran secco mi piacerebbe invece tornando con i piedi un pochino più sul lato un po meno costoso un king secco mi piacerebbe l'ho sempre detto uno uno qualsiasi qui da 38 da 39 anche da 37 anche se per me un po piccolino anche da 37 tutti belli un king secco mi piacerebbe ma anche qui in questo caso non è che non 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 mi sono potuto permettere non ho ancora potuto acquistare ecco sì semplicemente per questione di priorità secco poi altri numeri giapponesi orient citizen caso pallu 83 tra pochi giorni nasce il mio primo figlio sono un viaggiatore amo l'aviazione congratulazioni vorrei consacrare il momento con un orologio budget massimo 3k pensavo a un gliss in airman altre idee ottimo ottimo gliss in airman è veramente l'orologio sempre un bel posto di 3k credo un bellissimo orologio per celebrare la nascita del tuo figlio e coniugare la passione per i viaggi e l'aviazione direi di sì altre altre ci sono un sacco di orologi di orologi dedicati all'aviazione un pilot qualsiasi un ivc pilot magari sui 3k non ce la fai oppure un pilot fatto da qualche altra casa emilton fa delle grandi bel pilot che sono dedicati all'aviazione molto oppure se vuoi veramente essere fuori dal coro e prendere qualcosa di qualità un bel orologi calamai un bel g50 un cronografo quello lì sai che è anche fatto con l'acciaio ricavato dalle palle delle turbine del tornado e direi che più azzeccato di quello non c'è niente kurosawa 59 69 qual è l'orologio che ti ha deluso di più non lo so di quelli che ho posseduto di quelli che mi sono passati per le mani perché di quelli che mi sono passati per le mani il tempo è talmente breve che è quasi irrispettoso definirlo come deludente ci vuole più tempo per per marcarlo così no deludente così su due piedi deludente quando ho avuto per il triton triton francese è stato un po deludente quando l'ho recensito ma l'ho avuto per poco però ho dato delle cose che non mi piacevano quello è stato un po deludente di quelli che ho posseduto deludenti non ce n'è forse devo dire deludente così al botto no di prima chito ma si vedeva anche quando ho fatto il video di presentazione lo speed master lo mega speed master appena l'ho ricevuto i primi giorni ero deluso ero deluso perché lo vedevo un po troppo grande dicevo tutto qua poi dopo ho iniziato ad apprezzarlo e veramente adesso è uno di quelli che non che non vendo che non venderei che lo tengo per sempre proprio giocamento anche il cinturino quello me l'ha rivitalizzato mi ha dato nuova linfa però appena l'ho avuto sono rimasto deluso devo essere sincero ho dovuto anche impiegare del tempo a digerire quel salto della lancetta dei secondi cronografici che fa all'inizio poi ora alla fine è una stupidata ma io cronometro i tempi anche per utilità è ininfluente è irrilevante quel saltino lì perché non inficia la cronometria però nel momento in cui ho avuto l'orologio che lo vedevo un po troppo grande poi c'era questo problema con la lancetta dei secondi cron problema questa caratteristica che hanno quelli con smistamento laterale ero deluso sono rimasto deluso e per un per un attimo ho pensato prendere il 1957 sempre il crono dei di omega no poi una volta assimilate queste cose basta non lo vendo è uno dei miei orologi preferiti da tenere in collezione ragazzi qua sono finite le domande siete stati un po scarsi poche domande io vi ringrazio di essere arrivati fino a qua spero vi sia piaciuto questo semplice video così un po colloquiale tra noi e mi resta quindi che ricordarvi gli appuntamenti fisiche come sempre sono quando voglio io il più spesso possibile qui su youtube love grazie a tutti Grazie a tutti.